Vi presento l'ultimo coltello che mi sono fatto fare da Fabio Dallacosta, fodero in pelle, molto particolare. Il coltello che noi abbiamo chiamato X-Drager è una modifica di un disegno che avevo fatto per un altro coltello, un Drager appunto, poi alla fine non mi è piaciuto come disegno effettivo e l'abbiamo modificato, l'abbiamo fatto diventare in questa maniera. È diventato un Bowie, è in D3 come acciaio, lo spessore se ricordo bene è sui 7 mm, ha una particolare lama curva, manicatura in micarta nera, full tang, il logo di Fabio e la scritta del nome del coltello. Questo doppio filo è utile per tagliare corde o qualsiasi altra cosa possa essere utilizzata da tiro. Si impugna molto bene, è un coltello abbastanza pesante, da tre dimensioni. Come al solito Fabio ha fatto una finitura a specchio eccezionale e la parte di sopra è leggermente satinata. L'Ezza è in acciaio anch'essa, coltello molto massiccio. Anche il fodero è ben realizzato.